E' sempre più insistita. E' una piada da pizzi. Noi gli diamo giù del punto, sempre a camo, è davvero se mangiamo pane, strutto, fame, se che tu ci cerchi e tre le picchie, costa fame. Il conticino. E dammelo, sto conticino. E perché l'avete strappato? E che ce faccio del conticino? Ma come che ce faccio? E' li sordi miei. E' un tito. Come non me li date? Voi sapere la procedura? Sì, sì. Io n'i gaccio e tu n'i bichi. Io sono charman. Io sono charman. Lo sguardo che conquista nell'amore. Sono un artista. Lo sai perché? Bisogna esorcizzare con l'aiuto della beata quartina. E' il quartino e' meglio. Ecco il pollo che spegniamo. Voglio fare un bel discotto. Giù le carte, la settinetta. Prima l'acce la foglietta. Il Marchese del Grillo ha definito il nuovo lugantino con Enrico Montesano, grande ammattatore, nel doppio ruolo del Marchese Onofre del Grillo, Casperino e Carbonara. Le musiche originali firmate dal maestro Frieto. Ed è lo successo che si deve a tutto il team creativo di Sistina, quello stesso che ha dato vita a questa serata.